da chiedere, perseguitare gli ebrei è stato fondamentale per diventare Führer, comunque è stato uno degli elementi, non sappiamo quanto importante nella scala degli elementi ma sicuramente è stato fondamentale. Però da lì è venuta anche la sua distruzione, perché da lì è venuto il fatto che uno ha cominciato a pensare, vabbè, ma insomma, se uno non si ferma, se non trova mai il modo di fermarsi a un certo punto, allora vuol dire che è proprio pazzo. Nel 1924 ero rimasto solo e smarrito, un pugile suonato, un politico sconfitto e condannato al carcere per aver partecipato ad un falito colpo di Stato, il Puc di Monaco. Eppure, quando sembrava non esserci più alcuna speranza, ho cominciato ad elaborare il mio programma e ho scritto, nero su bianco, lo possono leggere tutti, che avrei fondato un impero e che io, un caporale imprigionato, ne sarei stato il Führer e che avrei condotto la Germania alla conquista del suo spazio vitale espaldendosi a Est. Perché? I sogni di un folle si sono realizzati esattamente come quel folle li aveva pensati. Perché i tedeschi mi hanno seguito. un piede, un gattro, un gattro, un pollo, un pollo, un pollo, un pollo. Memories are made of this Don't